Bene, 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 ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, oggi è weekend, quindi non vi stresso con cose complesse, andiamo a fare un briefing di vecchi grafici che non vediamo da un po' di tempo, di cui il più figo quello di Bitcoin che gareggia di pari passo contro il Nasdaq 100, che tra l'altro è vicino ai massimi storici, quindi sta andando da Dio, eccetera, e quindi è una corsa comunque con un pretendente dall'altra parte, con un contendente abbastanza forte e andiamo a vedere un po' di punti di riflessione per quanto riguarda quelle che sono le idee, le news nei prossimi mesi, cioè di quello che potrebbe impattare secondo me molto nei prossimi mesi, tra cui ovviamente ci sta anche l'albing. Prima di andare avanti, ragazzi, come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e poi Gin Tonic a tutti questa sera, weekend, mi piace quello agrumato, lo è, lo so, è secco. Vabbè, allora Gin Tonic io quasi quasi lo faccio dopo questo video, andiamo direttamente, allora prima di andare avanti però ragazzi vi do una promo, torniamo a parlare anche dell'Exchange Coin Call, quell'Exchange che è specializzato nelle opzioni sulle altcoin, tra le altre cose stavo proprio guardando alcune questioni legate alle opzioni di Bitcoin, perché si possono creare delle strategie estremamente interessanti e soprattutto perché soprattutto nelle option, quelle che hanno scadenza molto breve, Coin Call ha anche ridotto moltissimo lo spread di quelle che sono le opzioni vicino al prezzo attuale, quindi molto vicino. Per esempio in questo caso intorno ai 43, vi faccio vedere ad esempio la versione della Call a 43, quella che scade domani, in pratica costa, vedete, 2,67, 2,69, quindi c'ha uno spread abbastanza ridotto, poi in alcuni momenti si allarga e poi si restringe dopo pochi secondi. Quindi è interessante questa cosa anche perché comunque in ogni caso questo tipo di opzioni potrebbero essere anche utilizzate da chi le vuole utilizzare per andare a speculare sulla oscillazione di Bitcoin senza rischiare più di tanto, ci sono diverse strategie, ho fatto un corso relativo a queste cose, poi lo andremo ad incrementare man mano con altre lezioni, ma non è solo questo, è anche legato al discorso che per esempio i future iniziano ad avere volumi interessanti. Future di Bitcoin il perpetuo alla quello classico, 40 milioni oggi di volume, ma soprattutto spread molto bassi, vedete, anche qui, quindi può essere, diciamo, possiamo iniziare a utilizzarlo in maniera più consistente senza ombra di dubbio. E c'è una promo per chi volesse anche provarlo, anche io ho messo un po' di liquidità per iniziare a fare qualche test, 10% di bonus per il primo deposito in trading bonus. Vi danno un trial bonus, ragazzi, che potete utilizzare per fare trading e quindi verrà utilizzato prima di tutto. Quindi basta cliccare sul link che vi lascio in descrizione e aprire l'exchange e fare questo versamento, uno lo potete scegliere, insomma, come vi pare. Il primo versamento vi danno questo trial bonus interessantissimo perché vi permette appunto di valutare l'operatività. Potete rischiare quello invece del vostro capitale, fate trading, magari vi va anche bene su alcune botte di BIP e, insomma, fate qualche soldo e ne portate a casa. Quando c'è da regalare è tutto ben visto. Quindi, ragazzi, vi lascio il link in descrizione su CoinCall e magari, visto che ho messo su anche io qualche dollarone per fare i primi test, potremmo anche iniziare, diciamo, a utilizzarlo facendo, ad esempio, qualche operazione. Quindi in questo momento vi viene qui una bella operazioncina di short, della durata di 5 minuti, ma io l'ho sciolto BIP. Allora, ragazzi, è uscito poco fa quello che è una news interessante e incredibile, cioè vi faccio vedere la news di oggi. È buste paga, settore non agricole, non far payroll, che è salito a 353 mila rispetto ad attese di 187. In pratica, tutti questi numeroni, ma che cos'è ne sono questi numeroni? Allora, ragazzi, non far payroll sono le buste paga. Sono salite tantissimo, sono salite tanto negli Stati Uniti, nonostante tassi ai massimi storici da 20 anni, nonostante siano mantenuti ai massimi storici da 20 anni, nonostante, si parli di recessione a destra e a sinistra, non fare un payroll fortissimi, tenuti alti. Ma non è solo questo il discorso, ragazzi, erano previsti in fase di bassista, cioè era prevista, diciamo, un rilascio di, insomma, di buste paga in riduzione, non addirittura in crescita. E addirittura sono state in crescita rispetto non solo alla previsione, ma anche rispetto alla precedente dato. Quindi sono salite di 30.000, più o meno, rispetto al, di 20.000, scusate, rispetto al precedente dato. E questo, diciamo, è assurdo, no? Se vogliamo ragionarci. Cosa significa, però, ragazzi? Significa che i mercati hanno fatto subito il tonfone, piccolino, piccolino, anche Bitcoin, andiamola a vedere, infatti, quello che è successo proprio in quegli attimi. Vi faccio vedere in grafico più, diciamo, interessante rispetto a quello da, diciamo, troppo, poi, corto, quello da un minuto che vi avevo fatto vedere prima, ragazzi. Allora, guardate qui all'uscita dei dati. 15 minuti, 15 minuti, dum, dum. Sia Bitcoin, sia mercati classici. Perché anche dal punto di vista di mercati classici, per esempio, vi faccio vedere un dato estremamente interessante, cioè quello dei tassi di interesse dei titoli di Stato americani decennali, per esempio, che ha fatto l'impennata, pum, subito, il rendimento ha fatto l'impennata. Perché ha fatto l'impennata, ragazzi? Oggi ho problemi con TradingView, ragazzi, mi hanno resettato l'account, non so perché. Allora, in questo caso qui vedete l'app, in sostanza, del tasso di rendimento dei titoli di Stato americani simboleggia che è una cosa, il mercato non si attende più la riduzione dei tatti nel immediato, cioè non se li attende neanche a marzo, che io non me l'ero mai attesi a marzo. In realtà, perché sono cambiate queste cose? Cioè, allora, mercato del lavoro forte, sono sei mesi, ma sì, anche forse un annetto che vi parlo del mercato del lavoro americano come la cosa più importante da andare a valutare, a guardare, e in questo contesto nel 2024 è molto rilevante per comprendere l'atteggiamento dei tassi di interesse. Più il mercato del lavoro americano sarà debole, più i tassi probabilmente andranno a scendere. Poi c'è la questione delle elezioni negli Stati Uniti, ragazzi, quindi difficilmente il mercato del lavoro, secondo me, sarà debole quest'anno, perché faranno di tutto e di più per cercare di tenerlo alto. Ovviamente contro l'economia non si può fare più di tanto, però se potranno farlo, ragazzi, andare alle elezioni con un mercato del lavoro che è poco, diciamo, che sta andando male, negli Stati Uniti è vista malissimo, quindi, visto che sono stati, diciamo, l'hanno tenuti così, per tanto tempo è probabile che faranno la stessa cosa. Cioè, morale della favola, ragazzi, riduzione dei tassi di interesse prima delle elezioni dei presidenti degli Stati Uniti, sì, ma solo, massimo, un piccola riduzione. Io non ci vedo grandi riduzioni, a meno di catastrofi, appunto, imminenti, che non sono state, diciamo, non sono nelle corte. Tant'è vero che anche l'attesa per il prossimo PONC, e vi ricordo che l'ultimo è stato questa settimana, è di nuovo veramente schizzata, con una probabilità non decisamente alta, perché comunque c'è un 20% che ancora dice ci sarà una riduzione dei tassi, però la probabilità schizzata all'80% del non si riduce assolutamente niente. Ma vi faccio vedere anche questo. Terzo maggio è attesa, maggio-giugno era l'attesa della riduzione dei tassi di interesse, ma ha perso un po', no? Ha perso un po' spessore, tant'è vero che prima era più alto, adesso il 30% dice non si ridurranno neanche a maggio i tassi di interesse. Ma se io volessi fare un ragionamento un po' più a lungo periodo e dire, benissimo, ma ragioniamo a lungo, no? A dicembre questi tassi dove saranno? Perché poi come sono i tassi di interesse americani? Saranno anche quelli europei. In linea di massima vi faccio vedere anche le previsioni degli investitori istituzionali insomma per quanto riguarda il tasso degli Stati Uniti e quindi probabilmente dopo pochi mesi anche quelli europei o una garziana intorno a questi valori da 3,75 a 4,50. Quindi in pratica in sostanza 3,75 a 4,25. Cioè noi dovremmo assistere a una riduzione probabile del tasso di interesse entro la fine dell'anno di un punto, un punto e mezzo percentuale. Questo è rispetto agli attuali tassi di interesse. Il mercato si aspetta questo. Solo che è stato rimandato tutto quanto. In pratica ci vuole un po' di tempo. Probabilmente è verso giugno che i tassi di interesse staranno con grande probabilità ridotta. Infatti vedete che a giugno la riduzione attesa è addirittura sotto il 5%, mentre una piccola parte dice ok saranno 5,5,25. Quindi mezzo punto in meno rispetto a quelli attuali. E in sostanza poi si converge con una probabilità molto alta proprio verso giugno. Quindi maggio-giugno probabilmente attesa per riduzione dei tassi di interesse che coincide molto molto bene con la questione del secondo evento più importante dell'anno 2024 per gli amanti delle cripto dopo l'approvazione delle TF, dopo la scelta sui tassi di interesse con non far payroll che vanno alla grande, occupazione degli Stati Uniti che va alla grande, difficilmente catastrofi prima delle elezioni americane per ovvi motivi. Ne vedremo, a meno che non ci sono stratagemmi e tecniche politiche di altro stile. In pratica, tassi di interesse e riduzioni da maggio in poi. Cosa resta? Ci resta una cosa, l'Halving di Bitcoin ragazzi. Facciamo una cosa, andiamo a vedere l'Halving precedente, che cosa è successo, dove siamo, a che distanza siamo dall'Halving, cosa attenderci nei mesi successivi all'Halving e un po', un po' di, diciamo, graficucci da guardare. Eccoci qui ragazzi, allora, tutti gli Halving di Bitcoin dal 2016 li ho segnati su questo grafico. Ho lasciato anche un'altra indicazione abbastanza interessante, cioè quando BlackRock ha detto che facevano gli ETF su Bitcoin, ce l'ho, l'avevo fatta precedentemente e mi piaceva lasciarla, però gli cambio il colore così, diciamo, non c'è un po' da confondersi, la facciamo un po' più bluette. Allora, per quanto riguarda la questione legata agli Halving 2016, 2020 e 2024, atteso il prossimo per il 18 di aprile del 2024, l'Halving di Bitcoin che, vi ricordo, insomma, per chi non lo sapesse, in pratica è il dimezzamento dei reward di Bitcoin che si trovano all'interno di ogni blocco presente nella blockchain di Bitcoin che i miners in pratica vanno a scoprire, tra virgolette, a trovare la chiave di criptografica, aprono il blocco, scrivono la blockchain e allo stesso tempo trovano i reward di Bitcoin all'interno che gli consentono di far del mining, una specie di business, quindi ripagarsi dei costi delle macchine, dell'energia elettrica, il raffreddamento e quant'altro, ovviamente, guadagnare. I blocchi attuali di Bitcoin sono a 6, aspetta che vi faccio vedere quello che è il grafico direttamente, quello qua, ragazzi, non lo trovavo, 6,25 e passeranno a 3,125. In pratica questo è l'attuale fase. Ovviamente l'alving è avvenuto, diciamo, nei mesi, negli anni precedenti, dimizzando sempre il blocco. Siamo passati, infatti, a blocchi, per esempio, da 50 Bitcoin a ridotti poi a 25, ridotti a 12,50, l'attuale 16,125 e poi abbiamo i 3,12,50 e nuovamente, diciamo, che sarà una riduzione a metà. Allora, il sistema dell'alving è un sistema che riduce la offerta di Bitcoin, la presenza di Bitcoin nella rete e la sua infrazione che identifica come la questione dell'inflazione programmata. E' interessante, ovviamente, sempre l'atteggiamento che Bitcoin ha prima dell'alving e post-alving, perché comunque è un cambio strutturale di quello che è la struttura della offerta di Bitcoin all'interno del mercato. Quindi un cambio strutturale che ha prodotto in tutti i precedenti alving poi una bolla sul prezzo. Ed è stato, diciamo, interessante assistere a questa fase. Questo grafico avete imparato ormai a conoscerlo se siete amanti del settore delle criptovalute così ve lo metto in versione settimanale così riusciamo a vederlo un po' più ampio. Quindi, in sostanza, era quello che volevo farvi capire è sempre questo andamento a spirale fatto in questo modo che Bitcoin ha avuto nelle precedenti versioni. Ci sono delle differenze che, in pratica, si possono notare ma comunque le onde sostanzialmente sono sempre state queste. Quindi, di primo, a Kitto, la reazione dell'alving ormai la conosciamo benissimo. Andiamo però a comprendere un'altra cosa, ragazzi, cioè a comprendere se effettivamente l'attuale situazione può darci un'informazione su quello che succederà prima dell'alving è anche un po' opposta. Allora, intanto iniziamo dall'ultimo halving che abbiamo vissuto, quello del 2020. C'è un'anomalia, cioè la questione dovuta all'anomalia della pandemia. Infatti, secondo me, tutta questa struttura deve essere eliminata di sana pianta completamente e lasciare che il mercato faccia, diciamo, una struttura più o meno di congestione o laterale ribassista. È come se questa zona non esistesse, ragazzi, perché è dovuto a un evento che non c'entra niente con la natura dei mercati finanziari ma è unico, insomma, un evento raro, eccetera. Quindi l'atteggiamento, in sostanza, se lo prendiamo così prima dell'alving è quello di leggero laterale ribassista. Andiamolo a verificare anche precedentemente, per esempio, nell'alving del 2016 dove Bitcoin era anche estremamente più volatile. Che cosa è successo? Bitcoin è arrivato molto vicino all'alving, molto alto nell'alving del 2016. Quindi non abbiamo assistito a una fase di ribasso però l'ha fatta successivamente, ragazzi. Io me lo ricordo, tra l'altro, benissimo quel periodo. Questa fase qui ha creato, in pratica, vedete, una struttura di ribasso. Ora, noi non è che dobbiamo andare a ragionare in questa cosa, insomma, dell'alving in maniera proprio a singola data. Dobbiamo un po' ragionare sull'atteggiamento in zona dell'alving come sempre facciamo. Anche in questo caso, comunque, il ribasso era avvenuto prima per una questione consistente del... in maniera, diciamo, importante per una questione della pandemia però, in sostanza, anche in questo caso è avvenuto un laterale poi con una struttura di ribasso. Andiamo a vedere, diciamo, l'altro alving, quello del 2012, l'altro ancora non l'ho segnato, comunque quello del 2012 che cosa ha fatto? Precedentemente a quello del 2012 ha disegnato un massimo una barra di congestione con una fascia di ribasso e poi lateralità. Quindi questo è quello che avviene sostanzialmente prima dell'alving e quindi indecisione, congestione e lateralità. Sennò che, ragazzi, da un punto di vista di oggettività abbiamo anche dei dati che dobbiamo andare a guardare. Allora, io questo, insomma, volevo anche farvi vedere queste differenze. Per esempio, nel caso del 2016 il minimo teorico di Bitcoin ce ne furono due, però se noi andiamo a guardare quello in chiusura, perché, vi ripeto, qui era estremamente volatile, valeva 100 dollari, il minimo è stato a 500 giorni circa dalla struttura dell'alving e si è ripetuto, questo qui, a livello di serie storiche anche nel 2017 e 2020 e poi si è ripetuta alla perfezione nel 2022. Abbiamo segnato anche questo minimo più o meno 500 giorni prima dell'alving. Questa struttura, in pratica, ragazzi, ci indica che Bitcoin potrebbe essere molto simile, in questo caso, a questo tipo di configurazione, cioè a quella del 2012 in fase di pre-alving e anche a quella del 2016, mentre è molto diversa a quello del precedente alving. Perché? Perché se lo notate, qui il massimo fu fatto molto prima di questa struttura laterale e qui siamo già abbondantemente avanti. In pratica è come se il massimo lo dovevamo fare in questa zona qui, invece è stata fatta molti mesi addietro. La evidenza ci porta a dire che siamo molto più simili a questa annata o a questa qui come atteggiamento grafico di Bitcoin, dovuto probabilmente alla questione degli ETF, dovuto a tante cose, ma in sostanza è migliorativa questa cosa. Quindi, se dovessimo andare a concludere una struttura di previsione per entro aprile, dovremmo ragionare su, ok, sì, delle fasi di ribasso possibili, delle fasi di atteggiamento o di respiro eventuale, ma non pronunciate. Quindi potremmo assistere a un evento del genere, un laterale semplice fino all'Halving oppure teoricamente quello che ci riporta, e quello sarebbe la versione, diciamo, del 2017, parlo di questa qui, ragazzi, con una struttura di decadenza che poi arriva dopo, oppure una questione legata a quella del 2012 o con un massimo, diciamo, fatto un po' prima dell'Halving, che è praticamente una cosa del genere, giusto per capirci e poi andare a ragionare su una cosa del genere. Questa è la versione 2017 e quella di prima è la versione 2012. Mi sa che prima mi ho invertito le date, va bene. Comunque, la versione 2017, hype e poi down, la versione 2012, laterale, attuale. La versione 2019 e 2020 io l'abbandonerei perché c'è proprio una difformità evidente da questo punto di vista. Quindi, in sostanza, dopo, fino all'arrivo del Halving, potremmo assistere, diciamo, a questa cosa. Poi, volevo anche farvi vedere invece un atteggiamento successivo. Per esempio, nel caso difforme del 2019, l'atteggiamento comunque fu di barra di congestione con una leggera impennata che fu fatta qui e poi bolla speculativa. Mentre nel 2016 ci fu una ribasso perché ci fu il massimo fatto precedentemente, poi ribasso e lateralità e solo dopo veramente tanto tempo Bitcoin riuscì a recuperare i massimi che erano stati disegnati in pratica un po' prima. Quindi dopo l'Halving ci ha messo 160-170 giorni a salire sopra i precedenti massimi. mentre i massimi nel caso del 2019 e che appunto vi dice, vi ripeto, è molto difforme, furono più o meno 170. Quindi a distanza di massimi dall'Halving il recupero dei massimi precedenti è più o meno una ripetitività ciclica adeguata mentre i massimi appunto nell'anno 2019 erano molto più lontani. In questo caso furono vicini. Andiamo a vedere nel 2012 invece Bitcoin praticamente riprese subito la via del rialzo e i massimi vennero ritoccati quasi subito dopo il 2000, dopo l'Halving del 2012. In pratica avete 56-60 giorni per il superamento dei massimi. Però una costante l'abbiamo in tutte e tre questi atteggiamenti cioè un massimo viene fatto o un po' prima dell'Halving o prima dell'Halving in maniera più consistente come nel 2012 per esempio che è stato fatto ad agosto oppure addirittura nel 2020 che fu fatto a 2019 quindi quasi un anno prima in pratica dell'Halving che avvenne poi a maggio del 2020. Quindi in pratica la questione è teoricamente tutta legata a quale forma Bitcoin avrà in questa fase perché se avrà una forma un po' più similare a quella del 2017 con un AINF fatto tra poco poi potrebbe in sostanza andare a scendere nel periodo dell'Halving. Se invece abbraccia l'ipotesi del laterale potrebbe non superare più questi massimi che sono stati fatti in pratica a gennaio lateralizzare per un po' con una fase laterale ribassista prima dell'Halving e dopodiché metterci più o meno un tot di tempo almeno 60 giorni per superare questo livello di nuovo massimo. Allora qui ci sono queste due ipotesi che secondo me sono estremamente interessanti perché la versione con l'AIP in questa zona secondo me è un po' più temibile da certi punti di vista perché poi bloccherebbe per un po' di tempo magari l'eventuale superamento dei massimi sarebbe una cosa del genere questo è un remake in pratica del circa del 2017 però la versione invece del 2012 quindi lateralità fino all'Halving da qui fino all'Halving ribassista ma lateralità ci porta l'idea che poi potremmo ritornare a fare nuovi massimi in tempi un po' più brevi. Detto questo ragazzi penso che sia estremamente utile questa questione perché i prossimi giorni saranno estremamente interessanti proprio nel vedere l'atteggiamento che Bitcoin avrà da questo movimento di swing che è una ripresa che ci stava tutta ma che deve dare indicazioni diverse cioè se da qui il mercato torna a testare nuovi massimi allora andremo nella versione 2017 dell'Halving e già sapete quale ipotesi stiamo andando a cercare quindi un massimo prima dell'Halving che potrebbe essere fatto appunto dopo la prima decata di febbraio verso marzo più o meno e quello porterebbe a poi un ribasso successivo all'Halving teoricamente sempre se gli stori che parliamo però diciamo dovrebbe essere quello l'atteggiamento mentre invece un laterale quindi un Bitcoin che non riesce a superare i massimi in questi giorni porterebbe probabilmente al laterale ribassista fino all'Halving per poi invece iniziare una nuova fase estremamente interessante due ipotesi entrambe facilissime anche da trattare è una grande informazione questa soprattutto perché anticipiamo un po' di mesi quello che potrebbe avvenire fatemi sapere anche voi cosa ne pensate di questa cosa volevo mostrarvi un altro grafico non faccio in tempo lo vediamo lunedì ciao a tutti